Angelo Giuseppe Roncalli, che tutti conosciamo però come Papa Giovanni XXIII, anzi direi San Giovanni XXIII, Papa Buono, è il Papa del Concilio, un Papa che arriva anziano al soglio pontificio nella seconda metà dei suoi 70 anni e quindi era previsto e prevedibile come un Papa di transizione e infatti dura poco, dura 5 anni il suo pontificato, ma cambia la storia della Chiesa. Sono le sorprese dello Spirito, dello Spirito Santo ed è l'inizio di un'epoca veramente sorprendente, anche per la stessa Chiesa Cattolica, un'epoca che ancora oggi sviluppa i suoi frutti e i suoi effetti.